Arriva il Carnevale edizione 2023, un'edizione primaverile e continua il nostro giro all'interno dei garage per conoscere le maestranze che partecipano a questa edizione della festa. Siamo ospiti della Nuova Arte 96 che al Carnevale 2023 porta il carro allegorico Regeneration, l'arca della salvezza. Alessandro Segreto, presidente della Nuova Arte 96, per voi quest'anno una nuova esperienza, quella del carro Regeneration, l'arca della salvezza. Di cosa parla questo carro? Parliamo di un giovane Noè che dopo tutti gli eventi calamitosi e brutti che ci sono stati, questo Noè ritorna per darci una lezione al male che si sta attorno. Cerca di salvare poi tutto il bene che c'è, la storia, la cultura, la museo, gli animali, quelle cose per bene insomma. Com'è stato per voi questo lungo periodo senza Carnevale? Un po' è mancato, ci è mancato tantissimo, anche se io negli ultimi anni sono andato anche fuori a città, d'altra parte mi sono trovato benissimo. Però quest'anno ci è venuto un po' faticoso per tanti motivi, tanti intoppi che molta gente sa, però ce l'abbiamo fatta. Mancano pochi giorni alla sfilata, è innegabile che da parte vostra c'è stanchezza? Sì, la stanchezza sì, ma soprattutto lo stesso è mentale, perché è un Carnevale dalla confusione, purtroppo sia per l'uno che per l'altro, non doveva andare così, deve essere un Carnevale da ripartenza, invece purtroppo è ripartito un po' sballottato questo Carnevale. Però si deve cercare di migliorare e risolvere tutti i problemi possibili. La location della perriera vi preoccupa dal punto di vista meteorologico? Meteorologico se c'è vento sì, qua il problema è il vento, in passato abbiamo fatto, magari nella via percentuale della perriera, che era già un po' più coperta, i carri erano anche più coperti. Qua siamo completamente esposti, è come se dovevamo montare le terme, il problema era sempre quello. Qua siamo da tutti i lati esposti al vento e giustamente un po' di rischio c'è, anche per le gru quando devono alzare i pezzi è un bel problema. Alessandro, la vostra quest'anno è una squadra rinnovata, ci sono tanti elementi e in questi mesi qui c'è stata veramente tantissima festa, tante persone che hanno partecipato. Per voi è questa la parte più bella del Carnevale? Io ho avuto sempre una squadra forte di ragazzi, quest'anno si è incrementata di più, abbiamo fatto i nuovi innesti, persone di grande valore, sicuramente se ci sarà un futuro ne porteremo altri di grande valore. È una squadra vecchio stampo, dove ci sono ragazzi, famiglie, bambini, ci divertiamo, ci diamo l'anima tutti insieme per il carro, è una cosa bellissima. Forse siamo ancora gli unici di quell'epoca che vivono al Carnevale dentro il carro con le famiglie, con tutti. L'augurio per questo Carnevale? Ma che si superano tutti questi ostacoli e finisce in un modo sereno, tranquillo, perché giustamente noi siamo tutti un po' stanchi ormai, tutte queste vicende ci hanno un po' affaticato a tutti. Speriamo che chi ci accompagna a questo Carnevale sia comprensibile soprattutto, anche nei problemi, perché quest'anno è il Carnevale delle sorprese purtroppo, speriamo che finisce alla grande. I carri saranno sicuramente belli, noi cerchiamo di portare, anzi portiamo un carro innovativo e poi la gente deve dire se è bello o no, però siamo soddisfatti.